Tutto nasce da un sogno, un mercato green sostenibile al servizio della città e della Calabria. I punti salienti sono un revamping del fotovoltaico per produrre energia pulita, un nuovo sistema di depurazione, un nuovo sistema di viabilità per permettere un accesso sempre più rapido al mercato ortofrutticolo e una commercializzazione green delle merci con un pick up point per un last mile, quindi arrivano le merci e vengono smistate su mezzi interamente elettrici, una messa in sicurezza del mercato ortofrutticolo con un nuovo sistema di recensione e di vigilanza e una completa digitalizzazione dei processi interni al mercato. Noi abbiamo due anni di tempo circa per mettere tutto a regime, da domani inizieremo a lavorare lacrimente sul progetto. La struttura è una struttura un po' datata, una struttura di 20 anni, con una società che si sostiene da sola, quindi noi è una società in pareggio, inutile anche dopo gli ammortamenti, con un mall positivo ed è una società che ha necessità di questo progetto, ha necessità di questo progetto per continuare a costruire il sogno. Sì, un'ottima notizia per Catanzaro direi. Comalca, io ritengo che il Comalca sia uno degli asset principali a disposizione del nostro territorio. Forse se ne è parlato poco in questi anni, forse non vi è una consapevolezza piena di quello che è la forza e la potenzialità del più grosso, principale mercato agroalimentare della Calabria, intorno al quale io credo si possa costruire un rilancio anche di quel tessuto dell'imprenditoria legata al mondo agricolo, che rappresenta per la Calabria e per la nostra zona sicuramente un valore aggiunto. Non a caso l'amministrazione comunale ha inserito quell'area nella richiesta di ripelimetrazione della ZESC, che ove venisse accolto potrebbe sicuramente essere molto utile anche per il Comalca per sviluppare a pieno le sue potenzialità. Oggi, peraltro, questo ente ha dimostrato una grande capacità progettuale, riceve un riconoscimento importante, che sono questi 10 milioni di euro, che consentiranno sicuramente al Comalca di ammodernare, di efficientare tutte le proprie strutture e quindi di aprirsi a quella competizione che noi speriamo, pensiamo, potrà poi intraprendere anche in un'area che possa attirare più agevolmente degli investimenti. Il Comune esprime un membro del Consiglio d'amministrazione, ha una quota significativa ma minoritaria, ma certamente accompagna e accompagnerà con la massima attenzione le sorti e le scelte di un ente che, come ho detto, secondo noi rappresenta uno degli asset privilegiati che abbiamo sul nostro territorio. Ma quello che stiamo dicendo è che il Comalca è tutto il sistema ortofrutticolo che fa capo al Comalca, perché c'è tanto di indotto intorno al Comalca, e diventa veramente il fiore all'occhiello del sistema agroalimentare della nostra regione. Show cooking workshop è anche l'attivazione di tutto un sistema di strutture che renderanno l'intera area del Comalca sostenibile da un punto di vista ambientale, ma soprattutto logisticamente meglio fruibile da tutti gli operatori. Siamo particolarmente orgogliosi della possibilità che il PNRR con la sua applicazione, con questa misura, sui nostri territori darà agli enti, ma soprattutto alle imprese. Sono quasi 10 milioni che, secondo noi, sono assolutamente adeguati a quello che sono gli interventi, anche di carattere strutturale, la sostenibilità ambientale, dicevo, nuove tettoie, la logistica e anche la possibilità per l'attivazione di tutta una serie di dinamiche per valorizzare il chilometro zero. È importante perché il Comalca è oggi l'unica struttura agroalimentare esistente nella nostra regione.